Allora io sono arrivato in Querini 35 anni fa, mi sono arrivato come fattorino, quindi come fattorino piano piano, in quei tempi si faceva una mostra l'anno, un convegno, la presentazione di un libro l'anno e poi piano piano le attività culturali hanno iniziato a prendere forza e ad un certo punto sono nati gli amici dell'Acquerini che non so se conoscete e io sono stato chiamato ad occuparmi degli amici dell'Acquerini, anche oggi mi occupo assieme a una collega e al dirigente degli amici dell'Acquerini, tantissime cose, tantissimi lavori, per quel che riguarda le mostre sono un po' tecnico pratico delle mostre, allora io tengo in contatti un po' con tutte le ditte che lavorano per le mostre, elettricisti, allestitori e faccio un po' da unione tra di loro, devo dire che mi ritrovo molto spesso a lavorare proprio gomito a gomito con l'artista e il curatore della mostra, come avrete visto voi in questi giorni. Quindi partiamo da, che ne so, vediamo le installazioni, opere che vengono esposte in fondazione e che non sempre è facile esporre perché, adesso mi viene in mente i neon che abbiamo nella prima sala vicino al Portego, ecco quella era un'installazione che era appesa a soffitto per dire e dovevamo metterla a parete, quindi cambia tutto il tipo di attaccaglie e abbiamo, e ho cominciato a studiare come poter mettere per esempio quei tudi in vetro e che dessero, perché questo era quello che voleva poi Anita, e dessero la stessa impressione che davano da soffitto, tenerli larghi dalla parete e quindi abbiamo, ho cominciato a pensare come per esempio avere la stessa situazione del soffitto pur avendoli sulla parete, quindi ho contattato un fabbro, gli ho spiegato quello che avevo in mente di fare, provetta, alla Anita mi sembrava piacesse molto, ecco quella è una delle parti che faccio, ho appena finito di lavorare con gli elettricisti per l'illuminazione della mostra, ecco lavoro mio.